Buonasera cari amici di Fede Cultura, benvenuti a questo nuovo appuntamento e come sapete bene dai nostri annunci, questa sera abbiamo come ospite il professor Roberto De Mattei e parleremo di questo suo volume recentemente pubblicato dalla nostra casa editrice dal titolo molto chiaro, molto evocativo, Dio castiga il mondo? Punto di domanda. Il sottotitolo La fede di fronte al mistero del male. Prima di passare, ecco la parola al professor Zenone, vorrei presentare brevemente il nostro ospite. Il professor Roberto De Mattei è uno storico, ha insegnato nelle Università di Roma alla Sapienza, a Cassino e all'Europea di Roma. Tra il 2003 e il 2011 è stato per due mandati vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presidente della Fondazione Lepanto, direttore della rivista Radici Cristiane e dell'Agenzia di Informazione Corrispondenza Romana. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche, quali L'Osservatore Romano, Libero, Il Giornale d'Italia, Il Tempo, Il Foglio, ed è autore di oltre 30 libri tradotti in varie lingue. E con la nostra casa editrice ha pubblicato anche un altro testo, Vicario di Cristo, come fa presagire il titolo, sulla figura del Papa, del Pontefice. Si tratta, questo volume è in realtà presenta anche il contributo di altri autori molto noti nel mondo della tradizione cattolica, li elenco velocemente, padre Serafino Lanzetta, Monsignor Antonio Livi, Corrado Ognerre, padre Giovanni Cavalcoli e Cristina Siccardi, tutti i contributi di questi grandi autori che orbitano intorno al problema del male, del castigo di Dio, della teodicea, dicono i teologi, cioè appunto di quella branca della teologia che si occupa di risolvere, di conciliare l'apparente contraddizione tra l'esistenza di un Dio buono e misericordioso e l'esistenza del male nel mondo. Lascio dunque la parola, qualche parola di introduzione al professor Zenone e iniziamo, entriamo nel vivo della nostra diretta, ricordando tutti voi, sia alle persone che ci seguono sul canale YouTube, su Facebook, ma anche nella libreria, nella sala della libreria L'Isola del Tesoro, questo è uno dei nostri appuntamenti ecco anche in presenza, della possibilità ecco di poter intervenire con le proprie domande, con le proprie osservazioni. Bene, grazie Gaetano, grazie Roberto di essere venuto qui, è stata un po' di tribolazione per arrivare a tempo, ma ce l'abbiamo fatta. Sempre quando ci sono delle cose importanti qualche rogna viene fuori, ma siamo qua insieme e siamo amici e la cosa più bella è essere amici nella buona battaglia che combattiamo insieme per il tratto di strada o per il tratto di trincea in cui siamo chiamati a combattere. Ecco, e in questo momento l'occasione è buona per parlare proprio della giustizia divina e quindi anche non solamente della sua misericordia, qui dietro di noi abbiamo il quadro della divina misericordia, ma della giustizia di Dio che comporta anche il fatto che Dio castigli. Un modo di esprimersi che non piace molto al mondo di oggi, nemmeno al mondo clericale, anzi oggi guai parlare di castigli di Dio, si viene cacciati da Radio Maria, si viene marginalizzati, considerati dei talebani, poi non capisco perché talebani perché sono musulmani, noi siamo cattolici, ma comunque questa è la terminologia con cui a volte ci chiamano, pazienza. Noi sappiamo che ci guardiamo intorno c'è pieno di sofferenze, c'è il terremoto, c'è stato il coronavirus, ci sono state e ci sono ogni momento, c'è stato l'AIDS che è scoppiato un po' di anni fa e qualcuno giustamente diceva che era un castigo divino per chi si comportava in un certo modo. Qualcun altro invece non era molto d'accordo. Ma la Chiesa ha qualche cosa da dirci, la Chiesa di sempre, non la moda ecclesiastica del momento, ha qualche cosa da dirci in proposito oppure siamo in preda completamente delle mode mondane ed ecclesiastiche allo stesso tempo? Caro Roberto, grazie di essere con noi. Grazie, grazie soprattutto per l'invito Giovanni Zenone, grazie per l'invito di questa sera ma grazie soprattutto per avere ripubblicato un libro che apparve qualche anno fa dal titolo Il mistero del male e che oggi esce arricchito di nuovi contributi appunto con il titolo Dio Castiga il mondo, la fede di fronte al mistero del male. Queste riflessioni sono nate nel lontano ma non tanto, nel 2011, quando nel corso di una rubrica mensile che tenevo a Radio Maria proposi una riflessione sul mistero del male che prendeva spunto dal terremoto, dal maremoto, dallo tsunami che aveva allora colpito il Giappone. Però io in quel momento ero vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, malgrado avessi parlato a Radio Maria a titolo assolutamente privato senza coinvolgere in alcun modo quell'organismo, però questa trasmissione suscitò una marea di violente polemiche, giunte perfino a una raccolta di firme, furono raccolte mi sembrano oltre 10.000 firme per chiedere delle interrogazioni parlamentari, anche per chiedere le dimissioni dalla carica che ricoprivo. Dimissioni che però non ci furono, mantengono il posto e poi raccolsi quegli interventi e da allora disastri naturali, sciagure collettive, catastrofi di ogni genere si sono succedute e quindi rendono a mio parere la riflessione su questo tema forse oggi più attuale di quanto non lo potesse essere nel 2011. Ciò di cui mi rendo conto sempre di più è che mentre un tempo gli uomini erano capaci di leggere il linguaggio di Dio, i messaggi divini in tutti gli avvenimenti che sfuggivano alla loro volontà, oggi si è persa questa capacità di leggere i messaggi di Dio perché si è persa una nozione importante e profonda della nostra fede secondo cui tutto ciò che accade ha un significato, nel caso non esiste, tutto ciò che accade è voluto o permesso da Dio. E Dio si esprime anche attraverso il linguaggio del simbolo. Noi viviamo in un'era di razionalismo e poi di post-razionalismo che ha dissolto il linguaggio del simbolo o comunque lo ha sostituito con nuove forme di comunicazione sociale che sono quelle dei talk show, dei tweet, forme di espressione che si propongono di creare emozioni, di suscitare sentimenti che però non vanno a cogliere la ragione profonda delle cose. Mentre invece il sistema simbolico cristiano è quello della Divina Providenza. Divina Providenza che non è altro che Dio stesso, considerato in uno dei suoi attributi. Quando diciamo Divina Providenza diciamo Dio, ma è Dio considerato nei rapporti, nelle relazioni che ha con l'universo, con quell'universo che non solo ha creato dal nulla, ma mantiene, ordina, dirige a un fine per cui tutto ciò che accade viene da Dio e da Dio è ordinato alla sua gloria. Anche il male, anche le sofferenze, anche ciò che sfugge alla nostra ragione sotto questo aspetto rappresenta un mistero, per questo parliamo di un mistero, un mistero del male. Però sappiamo che per un cattolico ogni discorso non può che cominciare da Dio e finire con Dio proprio perché Dio si occupa delle sue creature e se ne occupa anche premiando o castigando quelle creature razionali e libere che compiono degli atti meritori o commettono delle colpe. Per cui il Catechismo di San Pio X insegna, ma il nuovo Catechismo non lo smentisce, il Catechismo di San Pio X dice che Dio premia i buoni e castiga i cattivi perché è giustizia infinita e la giustizia è una delle infinite perfezioni di Dio, così come la misericordia, ma l'infinita misericordia di Dio presuppone la sua infinita giustizia. Però tra i cattolici, come osservava giustamente Giovanni Zenone, l'idea di giustizia, così come l'idea di giudizio divino, è spesso rimossa. Ma noi dobbiamo fare uno sforzo per rimetterla in memoria, questa idea di giustizia, ricordando che la dottrina della Chiesa insegna l'esistenza di due diversi giudizi che comunque tendono l'uomo, ognuno di noi individualmente preso al termine della sua vita. Prima il giudizio particolare a cui ogni anima è sottoposta al momento della morte, l'anima si separa dal corpo e immediatamente è sottoposta a quello che la dottrina chiama giudizio particolare. E poi, alla fine del mondo, il giudizio universale a cui saranno sottoposti tutti gli uomini, non solo in anima, ma in anima e in corpo. E qualcuno potrebbe chiedere, ma perché sono necessari due giudizi? Perché è necessario un giudizio universale, dato che comunque questo giudizio universale non cambia il giudizio particolare? Ogni anima è giudicata immediatamente nel momento della sua morte perché deve essere rigiudicata una seconda volta. Non basterebbe solamente un giudizio. E una risposta profonda ce la dà San Tommaso d'Aquino, che è sempre un punto di riferimento, che dice questo. Ogni uomo è una persona a sé, però nello stesso tempo fa parte di tutto il genere umano. Perciò gli si deve un duplice giudizio. L'uno appunto chiamato particolare, che è quello che riceve secondo quello che lui ha fatto durante la sua vita, la sua vita individuale. anche se comunque questo giudizio e le conseguenze di questo giudizio riguarderanno solo l'anima e non il corpo, quindi sarà comunque un giudizio, diciamo così, la rimunerazione sarà parziale. Però ci deve essere un secondo giudizio che invece ci riguarda in quanto noi facciamo parte del genere umano. E che cosa significa questo? Significa che è vero, dice San Tommaso, spiega, che la vita umana dell'uomo termina con con la sua morte. Quindi dopo la morte noi non possiamo commettere più atti buoni o cattivi, però in realtà la nostra vita in qualche modo si prolunga anche nel futuro, perché continua a vivere nella memoria degli uomini, a cominciare dai nostri figli, dai nostri ipotesi, da chi ci ha conosciuto e non solo nella memoria, ma continua anche negli effetti delle proprie opere. San Tommaso fa l'esempio del grande eretico Ario, ma noi potremmo dire Martin Lutero, che San Tommaso non conosceva, o altri eresiarchi. Allora le conseguenze delle opere di Ario, di Lutero, di Robespierre, di Lenin, dureranno fino alla fine del mondo, perché il loro esempio, le loro idee, non sono terminate con la loro morte. Così come a contrario, fino alla fine del mondo si dilata la fede, la predicazione degli apostoli, San Paolo, Sant'Agostino, ecco io sto parlando di San Tommaso, San Tommaso attraverso le mie parole, sta continuando a fare del bene alle anime molti secoli dopo la sua morte. Ed è per questo che il giudizio di Dio non si conclude con la morte, ma si estende fino alla fine dei tempi, perché fino alla fine dei tempi si potrà estendere l'influenza buona o cattiva degli eletti o dei reprobri. Quindi quando ci sarà il giudizio universale, San Benedetto, San Francesco, San Tommaso, che hanno già ricevuto il loro giudizio particolare, quindi la loro anima sta già in paradiso, ma in quel momento, il momento del giudizio universale, davanti a tutto il genere umano, saranno lodati e premiati per tutto il bene che hanno continuato a fare fino alla fine del mondo, così come al contrario ci sarà un processo a tutti gli eretici, gli apostati, gli scismatici, i peccatori incalliti, i penitenti, che dovranno essere puniti anch'essi, anche se già sono stati condannati all'inferno, ma dovranno essere puniti per tutto il male che hanno continuato a fare fino alla fine del mondo. Questo è il significato del giudizio universale. E questo giudizio universale, a differenza di quello individuale che è il momento in cui noi ci troveremo da soli, tu a tu con Dio, e invece nel giudizio universale noi ci troveremo di fronte a tutti gli uomini che dall'inizio della creazione saranno presenti, Adamo ed Eva, saranno presenti i patriarchi, i profeti, tutti coloro che ci hanno conosciuti, sarà un grande giudizio pubblico. Saranno presenti naturalmente gli angeli, i santi, la porta al nostro Signore, la Beatissima Vergine Maria. Il Vangelo dice che nulla vi è di nascosto che non sia palesato, nulla di segreto che non debba essere conosciuto. E qua uno si pone il problema, beh, certo, diciamo, però i buoni allora saranno un po' svergognati perché anche, diciamo così, un santo potrebbe aver commesso dei brutti peccati, ma dicono, diciamo, i teologi che verrà steso, diciamo, un velo di oblio per… non saranno manifestate le cose, diciamo, di eventuali peccati commessi dai santi nella loro vita, mentre invece quelli che saranno svergognati saranno i peccati dei reprobi, dei cattivi. Perché è giusto che quelli che hanno guadagnato il cielo siano glorificati davanti agli uomini e che invece gli empi, i perversi, coloro che davanti agli uomini hanno condotto una vita apparentemente felice, ma che poi hanno perso, diciamo, l'anima, è giusto che siano pubblicamente e gli sono onorati. E un grande teologo come il padre Schmaus, ma anche il monsignor Piolanti che ha fatto la voce al giudizio universale sull'incipio di compedia cattolica, il padre Schmaus è stato un correttore di Joseph Ratzinger, e dice che nel giudizio universale si parlerà anche dei sistemi politici, ideologici, delle opere culturali, artistiche, scientifiche degli uomini, perché saranno giudicate anche loro, cioè tutto ciò che è stato fatto, o di buono o di cattivo, sarà giudicato. E siccome l'uomo nasce e vive all'interno di una famiglia, all'interno di una nazione, all'interno di una civiltà, e la nostra azione contribuisce o nel bene o nel male a trasformare la vita di una famiglia, o di una nazione, o di un popolo, anche questi popoli e queste nazioni andranno giudicati nella loro cultura, nelle loro istituzioni, nelle loro leggi, nella loro storia, questo è un punto importante, cioè un popolo che è rimasto fedele nei secoli a Dio sarà giudicato diversamente da un popolo che ha voltato le spalle a Dio, che gli è stato infedele, però a differenza degli uomini che saranno puniti o remunerati nell'eternità. I popoli, le nazioni come tali non hanno eternità e quindi riceveranno il loro giudizio, il loro giudizio universale, però la loro punizione o il loro premio l'avranno già ricevuto nel corso della storia, perché mentre gli uomini appunto possono avere il loro castigo e il loro premio sia in terra, ma soprattutto nell'eternità, le nazioni che sono prive di vita eterna vengono o punite o premiate solo in terra. Questo è molto importante per capire il significato del castigo, cioè alle nazioni, ai popoli, insisto su questo punto, un punto di cui parla anche Sant'Agostino, il premio o il castigo viene applicato non nell'eternità ma solo nella storia. Ed è per questo che il popolo cristiano ha sempre considerato sciagure come i terremoti, le carestie, le epidemie, ma anche le guerre, le rivoluzioni, diciamo le sciagure collettive come castigli divini, perché nel caso di una malattia che ha un singolo non è necessariamente un castigo, può essere anche una prova, anche un santo può essere provato da una profonda sofferenza per purificarsi, per purificarsi nella prospettiva della vita eterna, per anticipare sulla terra il purgatorio, ma questo non vale per le nazioni. Se le nazioni soffrono sulla terra perché sono castigate e se invece sono felici sulla terra è perché sono premiate. Per esempio il Medioevo fu un'età felice, ci sono degli studi storici, non di storici cattolici, ma di storici, per esempio ricordo Alberto Tenenti, Ruggero Romano, negli anni 60 hanno scritto dei libri interessanti su questo, che notano che nei cinque secoli, di grosso modo di Medioevo, non ci sono state guerre, guerre come noi le intendiamo, ci sono state, sì, le crociate a destra, ma c'è stata la lotta delle investiture, ma piccole guerriccione interne, non ci sono state epidemie, non ci sono stati terremoti, non ci sono stati, insomma è stata un'età, anche il clima era un clima molto temperato, molto tranquillo, in Inghilterra c'era vita, la Groenlandia era una terra felice, e invece con l'avvento dell'umanesimo, del rinascimento, è cominciata un'epoca di sofferenze storiche, cioè c'è un rapporto tra le rovine materiali e quelle spirituali. Il Signore lo ha manifestato, per esempio, a Santa Faustina Kowalska, Santa della Misericordia, polacca, molto cara a Giovanni Paolo II, annunciandole il castigo, prima della guerra, il castigo di una città, della città di Varsalia, la capitale della Polonia, per i peccati che si commettevano, soprattutto il peccato di aborto, che era molto praticato alla fine degli anni 30, diciamo del Novecento, in Polonia, e Varsavia fu distrutta durante la seconda guerra mondiale. E Giovanni Paolo II, in un'enciclica che conoscete tutti, la Evangelium Vitae, condannando l'aborto, dice che Dio non può lasciare impunito il delitto e dopo il delitto Dio interviene a vendicare l'ucciso. Sono parole molto forti da parte di Giovanni Paolo II, un Dio che vendica il peccato di aborto. Però Giovanni Paolo II esplicita con queste parole un concetto cattolico. Lo stesso Giovanni Paolo II scrive proprio in questo testo, cioè fa riferimento ai peccati che gridano vendita al cospetto di Dio, di un tempo parlava del catechismo, che includono l'omicidio volontario che si rinnova ogni giorno, oggi, negli numeri di aborti che vengono commessi in tutto il mondo. Poi ci sono altri peccati più gravi, i peccati che gridano vendita al cospetto di Dio. Il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, quindi non sto citando San Pio X, ma il nuovo catechismo di Giovanni Paolo II, esplicita, dice così, gridano verso il cielo, cioè chiamano la vendita di Dio, il sangue di Abele, cioè l'omicidio volontario, il peccato dei sodomiti, il lamento del popolo oppresso in Egitto, quindi l'oppressione dei poveri, insomma, il lamento del forestiero, della vedova e dell'orfano, l'ingiustizia verso il salariato. Non sono esattamente gli stessi, diciamo, che cita San Pio X, ma comprendono l'omicidio volontario e la sodomia. E sappiamo come Dio ha punito il peccato di Sodoma e di Gomorra con la distruzione di queste città. E allora qualcuno potrebbe dire, no, ma lì si trattava del Vecchio Testamento, ma poi nel Nuovo Testamento c'è un Dio di misericordia, di bontà. Però ricordiamo che nel Nuovo Testamento Gesù ammonisce severamente le città che rifiutano la sua predicazione, le corazi, le zai, la cafarne, le considera addirittura più colpevoli della stessa Sodoma, dicendo, le parole del nostro Signore sono queste, alla terra di Sodoma sarà usato minore rigore nel giorno di giudizio di quello che non è venuto per questa città, come cafarna. Perché dice, spiega anche perché, che se a Sodoma fossero stati operati i miracoli che sono stati compiuti in te, essa sarebbe rimasta fino a questo giorno, cioè non sarebbe stata distrutta Sodoma. Allora, ecco che da tutte queste considerazioni sorge una domanda, ma che cosa pensare di una società come quella contemporanea che ha fatto dell'omicidio volontario attraverso l'aborto e del peccato di Sodoma, una regola pubblica, sociale, cioè peccati introdotti nelle leggi, situazioni in cui chi si oppone pubblicamente a questi peccati collettivi viene marginato, viene perseguitato. Come non immaginare che a questo non segua inevitabilmente un castiglio? Ho citato Giovanni Paolo II, non potrei citare Benedetto XVI, che ha parlato più volte del castigo, ha ricordato le parole che il Signore nell'Apocalisse rivolse alla chiesa di Efeso, la ricordate Benedetto XVI nell'ottobre del 2005 per cura del signore di Rescomi. «Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il candelabro del suo posto». Sono le parole dell'Apocalisse. E Benedetto aggiunge, anche a noi può essere tolta la luce «e facciamo bene se lasciamo risuonare questo monito in tutta la sua serietà nella nostra anima». E poi, dice sempre Papa Benedetto, «se guardiamo la storia siamo costretti a registrare non di rado la freddezza e la ribellione di cristiani incoerenti, in conseguenza di ciò Dio, pur non venendo mai alla sua promessa di salvezza, ha dovuto spesso ricorrere al castigo». Quindi Benedetto XVI usa il termine di castigo e aggiunge «è spontaneo pensare in questo contesto al primo annuncio del Vangelo da cui scaturirono comunità cristiane inizialmente fiorenti che sono poi scomparse e sono oggi ricordate solo nei libri di storia. Non potrebbe avvenire la stessa cosa in questa nostra epoca?» Cioè, lui si riferisce alla scomparsa di città, pensiamo ad esempio alla città di Cartagine, no? Cartagine devastata dai vandali, poi sommersa dall'Islam, sappiamo che era la città dell'impero romano dove più si praticava il vizio della sodomia. Insomma, l'Africa settentrionale, che era terra cristiana, è stata… il cristianesimo è stato cancellato da quella terra e ha subito quella terra un profondo processo di decadenza, secoli sotto l'Islam. Veneto XVI avverte che questo stesso destino potrebbe toccare ai popoli europei. Dice, no, non potrebbe avvenire la stessa cosa in questa nostra epoca. e in un altro discorso del 18 maggio 2011, sempre benedetto XVI, ricorda il fatto che il Signore cercava un minimo di dieci giusti nelle città di Sodoma e Gomorra, ma, dice Benedetto, neppure dieci giusti si trovavano in Sodoma e Gomorra e le città vennero distrutte. Una distruzione paralmente testimoniata come necessaria proprio dalla preghiera della intercessione di Abramo, perché proprio quella preghiera, dice e spiega, ha rivelato la volontà salvifica di Dio, il Signore era disposto a perdonare, desiderava farlo, ma le città erano chiuse in un male totalizzante e paralizzante senza neppure pochi innocenti da cui partire per trasformare il male e il bene. E quindi spiega, Benedetto XVI in maniera profonda, il problema, dice, non è quello di sfuggire alla punizione, al castigo, ma di essere liberati da quel male che produce il castigo. Dice testualmente, non è il castigo che deve essere eliminato, ma il peccato, quello rifiuto di Dio e dell'amore che porta già in sé il castigo. Quindi io ho citato Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, due papi recenti che non hanno mancato di ricordare questa idea di castigo. E quindi io magari vado verso la conclusione per dare eventualmente la possibilità di fare qualche domanda, però la prospettiva del castigo è presente nell'insegnamento dei grandi teologi come Santo Maslequino, è presente nell'insegnamento dei papi di sempre, ma diciamo di quelli contemporanei come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ma è una prospettiva, quella del castigo, che è soprattutto presente di quello che è il più grande messaggio divino dei nostri tempi, degli ultimi secoli, che è quello di Fatima. Quando parliamo del messaggio di Fatima, parliamo di un messaggio che è stato riconosciuto nelle apparizioni di Fatima, non solo sono state come apparizioni riconosciute ufficialmente dalla Chiesa, ma il 26 giugno dell'anno 2000, regnante Giovanni Paolo II, io ricordo ero presente nella conferenza stampa in cui il cardinale Ratzinger ha ufficialmente presentato come autentico e come attuale il terzo segreto di Fatima, cioè ha presentato tutti e tre i segreti, comprendente il terzo. Quindi ci troviamo di fronte a delle parole che noi siamo certi essere provenienti dal cielo, le parole della Madonna a Fatima. Non sono così rivelazioni private, diciamo dubbie, discutibili, verificabili, ma sono ufficialmente riconosciute da tutti i papi del Novecento, successivi al 1917, da Pio X a Papa Francesco, e che hanno quindi un valore molto importante. E il messaggio di Fatima costa, come sapete, di due visioni. La prima è la terribile visione dell'inferno, cioè il castigo individuale dei peccatori. E poi il terzo segreto, che è la seconda visione, ci mostra un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra che con la mano destra indica la terra, ripetendo per tre volte con una voce molto ferma e forte la parola penitenza. Penitenza, penitenza, mentre i pastorelli hanno visto suor Lucia, anzi in questo caso perché stiamo parlando del terzo segreto, ha visto sacerdoti, religiosi, laici e il Papa che li guidava a cadere colpiti a morte anche di una grande croce. Ecco, mentre mostrava loro queste visioni, la Madonna, la Madonna, perché queste sono visioni, ma poi c'erano le parole della Madonna e le parole sono queste. Dio sta per castigare il mondo, ecco la parola castigo che ritorna, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirlo verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabbati. Se accetteranno le mie richieste la Russia si convertirà e avranno pace altrimenti la Russia spargerà i suoi errori nel mondo promuovendo guerre, persecuzioni alla Chiesa, infine i buoni saranno martedizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, le varie nazioni saranno distrutte, infine il mio cuore immacolato trionfera. Questo è il messaggio di Fatima che cosa ci ricorda? Ci ricorda che sull'umanità incombe come una spada di Damocle un terribile castigo. E il messaggio di Fatima ci ricorda che la morte, tutti i mali, tutte le sofferenze hanno la loro origine nel peccato, ma siccome non c'è solo la visione dell'inferno, ma c'è anche la visione di quella tragica visione di una collettività intera cattolica che viene annientata e poi parla dell'annientamento delle nazioni, ci ricorda che il peccato pubblico è più grave di quello individuale e che Dio punisce i peccati sociali come sempre li ha puniti nella storia, cioè con i flagelli delle malattie, delle guerre, della fame, delle sciagure naturali e questo lo fa perché Dio punisce o premia le società nel loro orizzonte terreno e se il mondo non si pente e soprattutto potremmo dire se gli uomini di chiesa che avrebbero il dovere di ricordare questa verità tacciono i castigli che all'inizio possono essere anche inflitti in maniera mite per risvegliare gli uomini sono destinati ad aggravarsi sempre di più fino ad arrivare all'annientamento di intere nazioni perché questa è l'espressione della Madonna nel messaggio di Fatima diverse nazioni saranno annientate non sappiamo quali come però sappiamo che questo è un orizzonte tragico e ripeto Fatima non è non è un romanzo apocalittico è un annuncio divino riconosciuto ufficialmente dalla chiesa e quindi e concludo per lasciare lo spazio a qualche domanda noi dobbiamo amare non solo la misericordia di Dio ma anche la sua giustizia perché se non se tralasciamo la sua giustizia per affidarci solo alla sua misericordia ci priviamo di quel timore di Dio che è l'inizio della sapienza e purtroppo oggi molti di coloro che che ignorano la dimensione della giustizia di Dio ma parlano solo della misericordia invece del timore di Dio che la giustizia divina ispira manifestano un timore un timore del mondo perché in realtà nasce psicologicamente questo atteggiamento di del diciamo di buonismo da un volersi da una mancanza di di coraggio nell'opporsi a quelle che sono le leggi e le mode del mondo ma a timor di Dio chi rispetta la legge divina e naturale chi non la rispetta o la ignora è privo di timore di Dio e quindi noi dobbiamo amare e rispettare la giustizia di Dio proprio per poi poterci affidare pienamente alla sua alla sua misericordia perché è chiaro che l'ultima parola di Dio è una parola di misericordia per questo Sant'Agostino dice usa una bella frase dice avete paura di Dio salvatevi tra le sue braccia potremmo dire abbiamo paura dei castighi che incommono sulla humanità qualche volta c'è un sentimento di di tremore beh salviamoci tra le braccia tra le braccia della Madonna perché la Madonna che ha annunciato questi castighi ha annunciato anche il trionfo del suo cuore immacolato e ci ha invitato a rifugiarsi nelle sue braccia quando ha usato questa espressione che che deve diciamo riempire il cuore non di diciamo di spavento ma di grande fiducia a quelle parole infine il mio cuore immacolato trionferà nel milenovecento nel duemiladiciassette il quindicinque anni fa io ricordo che era il centenario di Fatima e se ne parlava c'è stato qualche libro qualche conferenza qualche convegno dedicato a Fatima ma mi sembra che negli ultimi anni anche nel mondo tradizionalista di sentire parlare sempre di meno cioè Fatima sembra un messaggio un poco dimenticato ed è per questo che anche oggi in questa bella occasione di cui ringrazio ancora Giovanni Zenone ho voluto ho voluto parlare anche perché costituisce in un certo senso il retroterra del del libro che oggi presentiamo e se siete interessati ad approfondire questi argomenti li potrete approfondire anche nella lettura del libro questo Dio castiga il mondo la fede di fronte al mistero del male grazie Roberto bellissimo il tuo intervento e io credo che sia veramente importante e cattolico parlare dei castighi di Dio e non parlare della misericordia perché come insegna un padre un padre spirituale il demonio davanti alla tentazione dice ricordati la misericordia di Dio quindi comincia con la misericordia e così tu fidando della misericordia ti tuffi a peccare dopo che hai peccato dice questo padre spirituale ti accusa e ti dice adesso ricordati del giudizio di Dio e ti terrorizza perché ti meriti il giudizio e il castigo invece invece Dio che cosa fa con il cristiano davanti alla tentazione con l'angelo custode come vogliamo davanti alla tentazione ti dice ricordati del giudizio di Dio e quindi ti fa venire voglia di non peccare perché sai che c'è il giudizio e dopo che invece hai peccato eventualmente dopo che hai peccato non ti accusa ma ti dice adesso ricordati della misericordia di Dio e quindi siccome siamo in questa vita e non siamo già dopo siamo ancora nel tempo della tentazione le tentazioni sono ordinarie nella vita dell'uomo non c'è salvezza senza tentazione e quindi è anche giusto pregare Padre Nostro come si deve non ci indurre in tentazione perché non ci indurre non indurre in tentazione beh l'ha spiegato bene Gesù e ci sono mille motivi oltre che linguistici anche teologici per dire questo ma davanti alla tentazione la prima cosa che dobbiamo fare per cercare di non cadere in tentazione è pensare alla giustizia di Dio perché se cominciamo con la misericordia finiamo davvero nel trabocchetto del diavolaccio bene adesso vorrei lasciare adesso voi che siete in sala Camilla vi sta distribuendo il foglietto per le domande però già è molto bello molto interessante allora poi c'è un'altra domanda che è di Marilena Mura il modernismo e il relativismo dell'epoca di oggi potrebbero essere un castigo premonitorio sicuramente sicuramente in questo senso che naturalmente quando parliamo di castigli noi pensiamo giustamente all'aspetto che più ci colpisce dei castigli cioè l'aspetto che potremmo definire fisico cruento una sciagura collettiva una terremoto una guerra però c'è una forma di castigo più profonda se vogliamo più terribile che è il castigo che colpisce non i corpi ma le anime e in questo senso potremmo dire che ogni peccato porta in se stesso il castigo il modernismo e il relativismo sono delle forme sono dei peccati intellettuali che in loro stessi portano il castigo perché il castigo consiste nello parliamo ad esempio del relativismo che ciò che in cui noi oggi siamo immersi il relativismo porta con sé lo smarrimento delle anime il disorientamento la confusione che seguono la perdita di valori morali assoluti in questo senso e sotto questo aspetto il castigo cruento diciamo così può essere un atto di misericordia di enorme misericordia noi sappiamo ad esempio perché lo dice San Pietro negli atti che durante il giudizio durante il diluvio universale ci furono molti che perirono ma che si convertirono Noè per oltre per cento venti anni aveva predicato aveva invitato al pentimento ma nessuno lo aveva ascoltato ma molti di coloro che non lo avevano ascoltato al momento del diluvio si si convertirono perché perché è logico che che l'anima tende ad elevarsi a Dio nel momento in cui subisce una sofferenza molto di più che in un momento in cui si è immersa nel piacere e quindi in questo senso il il castigo può essere qualche una sorta di scossone salutare per le anime portandole forse alla morte fisica ma alla vita spirituale cioè alla conversione e sempre sotto questo aspetto è molto più drammatica è un'epoca in cui è priva di castigli un'epoca che è priva di castigli e in cui quindi la voce di Dio o l'intervento di Dio sembra assente sì vorrei ricordare comunque che nell'apocalisse si parla delle piaghe e castigli divini dal cielo che cadono e alcuni uomini alzano i pugni al cielo e invece che convertirsi come dovrebbero si irrigidiscono così nella nella loro ostinazione nel loro odio contro Dio che poi si consoliderà definitivamente con la caduta delle anime nell'inferno c'è poi una domanda di Leone di Isernia cosa pensare del tremendo terremoto in Siria e in Turchia può essere considerato un avvertimento per risvegliare le nostre coscienze indurite dai suddetti peccati io penso proprio di sì penso proprio di sì perché perché ogni catastrofe o ogni tragedia è in qualche modo permessa da Dio e quindi ha un significato e il significato può essere proprio quello di farci riflettere sulla precarietà della nostra situazione nella nostra condizione umana sulla fragilità della vita sulla possibilità che un intervento improvviso manifestasse attraverso una esplosione delle forze della natura ma noi sappiamo che la natura non è cieca ma la natura ha un autore questo autore è Dio quindi nulla accade diciamo nella natura che in qualche modo non sia permesso da Dio quello che accade in questo momento in Oriente sia un messaggio rivolto all'Occidente noi abbiamo in questo momento un terremoto che oltretutto è stato un terremoto diverso da molti precedenti perché è stata una lunga faglia che si è allungata per centinaia di chilometri e che quindi mostra in sé la possibilità di propagazione che hanno questi terremoti dall'altra parte noi abbiamo una guerra quasi nel cuore dell'Europa la nostra insomma la nostra vita tranquilla di ogni giorno sembra quasi circondata da eventi che che non sono che non hanno ancora fatto irruzione nella nostra nella nostra giornata di vita ma che in qualche modo ci interpellano ci spingono ci spingono alla riflessione quindi io credo che dobbiamo interpretare anche in questo modo il terremoto della Turchia della Siria sì c'è una domanda adesso di Fabio Fuiano che dice vorrei chiedere se secondo lei c'è un legame tra i castighi di Dio e la divina provvidenza e poi come recuperare una tale visione nel mondo cattolico certamente c'è un legame proprio perché ehm la divina provvidenza eh è il la potremmo definire metaforicamente come la mano di Dio che opera nella storia ciò che la divina mente di Dio ha ha pensato e ha voluto fin dall'eternità eh tutto ciò che nella nella storia accade è voluto da Dio anche ciò che da Dio è semplicemente permesso però Dio lo ha voluto permettere e quindi in qualche modo diciamo non è neanche impreciso parlare dire che tutto quello che accade è voluto da Dio e tutto quello che Dio vuole è unicamente per la sua gloria e per la e per la salvezza delle anime ecco in questa eh in questa diciamo in questa prospettiva la prospettiva in cui tutto viene da Dio tutto ritorna da Dio tutto è ordinato alla gloria di Dio e la salvezza delle anime anche i castighi eh hanno hanno questo significato eh ogni castigo eh i castighi svolgono diciamo un un duplice ruolo se vogliamo da una parte eh manifestano la gloria di Dio nel sotto l'aspetto eh cioè nel castigo noi possiamo proprio ammirare contemplare Dio nel suo aspetto di di infinita giustizia quindi indipendentemente dalla salvezza diciamo delle anime ma il castigo ci porta a dire eh Dio Dio è giusto Dio è intervenuto Dio Dio di fronte a Sodoma e Gomorra diciamo distrutta dal fuoco diciamo l'animo del cattolico ehm si rallegra contempla ammira diciamo la 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 giustizia di Dio ma d'altra parte d'altra parte Dio eh è anche infinita misericordia e quindi l'infinita misericordia si può manifestare o nella conversione facciamo prima l'esempio del diluvio universale ma anche uno potrebbe dire ma magari e se a Sodoma e Gomorra nessuno si è convertito e in che modo si è manifestata la misericordia di Dio si è manifestata nel fatto che interrompendo questi vizi se anche queste non sappiamo se ci sono state delle conversioni e forse ci sono state ma comunque sia eh le diciamo le pene nel purgatorio si sono convertite o nell'inferno si sono dannate comunque si sono abbreviate si sono abbreviate perché la cosa terribile è quando Dio il castigo più terribile è quando Dio lascia che che il male prosegua e che quindi i peccati degli uomini come singoli o delle società intere aumentino aumentino a dismisura il l'intervento di Dio è comunque benefico benefico per per le anime un'anima che un uomo o una donna che viene come dire sottratto alla vita prima per esempio che possa compiere un peccato grave o un peccato più grave beh riceve un atto di misericordia di Dio non va noi non sappiamo tante volte ci domandiamo sul mistero della morte degli innocenti sul mistero della morte dei bambini su tante cose che sfuggono alla nostra comprensione ma che hanno un significato agli occhi di Dio perché Dio certamente ci ama infinitamente e quindi tutto ciò che permette è ordinato non solo alla sua maggior gloria ma al nostro al nostro maggior bene quindi Dio comunque va sempre qualsiasi cosa accada lodato e ammirato per tutto ciò che in maniera diretta o indiretta compie vuole o permette mi viene in mente che una delle obiezioni che delle persone che hanno o poca fede o una fede poco chiara fanno ma se qualcuno deve essere punito perché vengono puniti in realtà diciamo così sparando nel mucchio un terremoto anche i bambini anche gli innocenti io vorrei rispondere a chi fa questo genere di obiezione che è comprensibile che la misericordia di Dio ha colpito il più innocente di tutti cioè Gesù Cristo attraverso la passione per pagare per i peccati di tutti gli uomini e per offrire loro la salvezza e quindi anche il dolore innocente dei bambini o di chi anche non è bambino ma che è innocente non è inutile nell'ottica dell'eternità ma anche di questa terra in un senso espiativo e redentivo certo ma giustissimo e posso aggiungere proprio una citazione di San Tommaso che ha toccato questo aspetto della morte degli innocenti e quindi dice San Tommaso i bambini sono puniti con le pene temporali assieme ai genitori per esempio in un terremoto sia perché appartengono ad essi e sia perché in loro Dio punisce i genitori e infine anche perché questo ridonda al loro bene perché se dovessero sopravvivere sarebbero portati a imitare le colpe dei genitori e quindi meriterebbero pene più gravi in un terremoto e quindi Grazie.